Tutti sull'attenti domani, su Rete Veneta torna l'ormai immancabile appuntamento con le emozioni alpine. A partire dalle 9 in diretta da Chiampo vi porteremo nel cuore dell'edizione 2017 del Raduno Triveneto degli Alpini. Oltre 20.000 le penne nere che sfileranno dalle 9.30 e per tutta la mattinata lungo le vie principali del paese vicentino che si prepara ad accogliere alpini e simpatizzanti per quella che ancora una volta sarà una grande festa. Cinque settori in cui sarà suddivisa la sfilata che prenderà il via alle 9.30 con il passaggio della prima fanfara e del gonfalone del comune di Chiampo che precederà l'arrivo del Labaro dell'Ana Nazionale. Si partirà dalle penne nere del Friuli Venezia Giulia per continuare con gli alpini del Trentino Alto Adige e poi sarà la volta dei Veneti. Tanti, tantissimi quelli attesi in Val Chiampo dove non mancherà certo una folta delegazione dei bassanesi dell'Ana Montegrappa. A chiudere la sfilata saranno i padroni di casa della sezione di Vicenza cui Chiampo appartiene di diritto fino allo striscione a rivederci a Vittorio Veneto, città che ospiterà il raduno Triveneto nel 2018. Noi intanto vi aspettiamo domani in diretta da Chiampo a partire dalle 9.